Musica 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 L'Oquificio Golinelli sarà un acceleratore per la società, un luogo dove faremo attività educative, formative e culturali orientate in particolare ai giovani e ai futuri cittadini. Per noi l'Oquificio vuole essere un acceleratore per dare competenza, capacità, spirito critico, innovazione, responsabilità e etica ai giovani per guardare al futuro, un futuro articolato, complicato, a tratti imprevedibile, ma se si danno strumenti adeguati i giovani potranno guardare con fiducia questo futuro e l'Oquificio sarà la loro casa. L'Oquificio 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 L'Oquificio